Schianto tra auto e camion sull'A14 a Fano, morta una tedesca di 55 anni, due persone trasportate negli ospedali di Fano e torrette biancone. Restano 20 casi di dengue a Fano, nessun contagio nelle ultime ore, rinviata a causa maltempo la disinfestazione prevista per questa sera. Incendio all'autocarro dell'uomo con cui aveva litigato dopo un incidente stradale, per il cinquantenne scatta la libertà vigilata per un anno e l'obbligo di seguire il programma terapeutico per le dipendenze patologiche. Da marzo tenta inutilmente di prenotare una visita oculistica all'ospedale di Fano e il CUP lo dirotta nelle basse marche. Su Fano TV la denuncia di un pensionato. Al pronto soccorso di Pesaro il sit-in di protesta del Partito Democratico, il sindaco Andrea Biancagni attacca, il centrodestra sta affossando la sanità, tra i temi discussi il nuovo ospedale a Muraglia e l'esodo dei Medici. Continuano a Fano gli avvistamenti dei lupi in diversi quartieri della città, il biologo Cristian Gori ci spiega il perché di questo fenomeno e come comportarsi. Intanto il consigliere di Civici Marche, Giacomo Rossi, scrive all'assessore Antonini e alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione. Scuola Collodia Pesaro, il comune dice no alla realizzazione di una rampa per disabili. Sabato scorso in Piazza del Popolo si è svolta la protesta dei genitori. Si preannuncia una buona annata per la vendemmia 2024. Nelle campagne del nostro introterra la raccolta è partita in anticipo grazie al clima variegato che ha già avuto un impatto significativo sulla qualità delle uve. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con lo spazio informativo di Fano TV Occhio alla Notizia. Una tedesca di 55 anni a bordo di un Volkswagen van ha perso la vita in un tragico incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14 lungo l'autostrada A14 a 100 metri dall'uscita del casello di Fano in direzione nord. Nel sinistro per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polstrada intervenuta con quattro pattuglie sono rimasti coinvolti l'auto e un autocarro Iveco. Sul posto anche due squadre dei vigili del fuoco di Fano e Senigallia che hanno estratto dall'abitacolo le persone rimaste incastrate. L'autostrada è stata chiusa al traffico per permettere l'atterraggio dell'eliambulanza che ha trasportato un uomo, anche lui a bordo del van, a Torrette di Ancona mentre il conducente del camion è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santa Croce. Inevitabili le lunghe code e i rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso. Ed ora passiamo ai casi di dengue a Fano. Nelle ultime ore non sono stati registrati nuovi contagi. Simona Zonghetti oggi ha fatto il punto con il sindaco Serfilippi che ha annunciato il rinvio dell'ultima disinfestazione inizialmente prevista per questa notte. Questa sera invece si rifarà la disinfestazione come preannunciato oppure no? No, dopo le due serate di disinfestazione, quindi quella tra sabato e domenica, tra domenica e lunedì, oggi a mezzogiorno e mezza in fase di cocca abbiamo deciso di rinviare a data da destinare, presumibilmente la prossima sarà tra domenica e lunedì prossimo perché in questi giorni è prevista forte pioggia, quindi già da questa notte è prevista pioggia, quindi non ha senso fare la disinfestazione, quindi in accordo con tutti gli enti abbiamo deciso di rinviarla. Quindi daremo informazioni alla cittadinanza nei prossimi giorni, invece nei parchi pubblici è stata effettuata? Allora, nei parchi pubblici come in tutte le vie pubbliche è stata effettuata la disinfestazione. È chiaro che quando ci siamo visti con tutte le ditte gli abbiamo chiesto di non irrorare la sostanza, diciamo la disinfestazione, sopra i giochi per i bambini, quindi l'abbiamo voluto escludere come misura precauzionale. È chiaro che non succede niente, però a me abbiamo preferito evitare. Mentre su tutti i parchi pubblici, quindi anche le zone antistanti, assolutamente sì, come abbiamo rifatto la disinfestazione nelle scuole, nei cimiteri, cosa che avevamo tra l'altro già fatto nelle settimane scorse. Daniel Green Power invece avete delle informazioni, degli aggiornamenti, visto che di competenza loro effettuarla lungo il canale Albani? Sì, questa mattina ci siamo visti, già c'era stata la disponibilità da parte di Enel a fare la disinfestazione, basta un avviso di qualche giorno prima, quindi previsibilmente tra domenica e lunedì prossimo, quindi quando ripartiremo in quella notte, anche Enel Green Power effettuerà la disinfestazione all'interno del canale. Ma di fatto già con la disinfestazione che abbiamo fatto come comune, siccome ci sono due vie importanti, come via Papiria e la via della superstrada, noi già abbiamo fatto la disinfestazione lungo tutto il canale Albani, parte esterna, ma di fatto è andata a finire anche internamente. Dopo le piogge di questi giorni sarà necessario invece che Enel provveda nella parte interna di sua competenza. Facciamo chiarezza anche per gli animali, possono rimanere all'aperto? Allora, gli animali possono naturalmente girare all'aperto nei parchi, non c'è nessun tipo di problema, abbiamo interpellato anche l'Istituto Zooprofilattico con la quale c'è un'ottima collaborazione, non c'è nessun rischio per nessun tipo di animale, è chiaro che quando avviene la disinfestazione sarebbe più opportuno metterli dentro casa, se invece questo non è possibile non c'è nessun tipo di problema perché si riparano all'interno delle cucce. Sindaco, viste le condizioni meteo avverse, i cittadini che cosa possono fare? Possono darci una grande mano, anche perché il 30% si sviluppa nelle aree pubbliche, ma il 70% nelle aree private, quindi è fondamentale la collaborazione dei cittadini quando smetterà di piovere nei prossimi giorni, di svuotare tutti i vasi, tutti i vari contenitori con acqua e tagliare la vegetazione all'interno del proprio perimetro di casa, perché dove c'è una vegetazione importante e alta è molto più facile che le zanzare prolificano. Torniamo a parlare dell'uomo che a giugno era stato violentemente aggredito a seguito di un incidente stradale e dopo alcuni giorni aveva subito un incendio dell'autocarro e dell'auto che aveva interessato anche la sua officina, perché nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Fano diretti dal dirigente Stefano Seretti hanno eseguito l'ordinanza della misura di sicurezza della libertà vigilata per un uomo a carico di un cinquantenne che si è reso autore delle lesioni personali e dei danneggiamenti. Durante una manovra di parcheggio infatti aveva urtato l'autocarro della persona offesa danneggiandolo e a seguito della legittima richiesta di risarcimento era scaturito un diverbio tra le parti fino a degenerare in un'aggressione fisica e nella minaccia di incendiargli il capannone e le attrezzature. La vittima, oltre a restare ferita, aveva accusato un malore. L'aggressore invece era stato sottoposto ad un consulto psichiatrico che era risultato positivo agli accertamenti tossicologici e alcolemici. Gli attriti fra i due uomini erano continuati fino ad un secondo episodio. Scaturito con l'incendio di un autocarro e di un'auto a Falcineto di Fano, le cui fiamme avevano lambito anche l'officina della vittima grazie alle telecamere. Poi gli agenti avevano potuto identificare l'autore del gesto. Ora il provvedimento del GIP prevede per i cinquantenne anche l'obbligo di seguire il programma terapeutico previsto per le dipendenze patologiche, nonché l'assoluto divieto di compiere condotte moleste, minacciose o lesive dell'integrità psicofisica ai danni della persona, della parte offesa. E adesso parliamo del sistema sanitario. Quanti cittadini si sono rivolti al CUP per chiedere l'appuntamento per un esame o una visita medica e quanti si sono sentiti rispondere che non c'è posto, sono stati dirottati in strutture sanitarie di altre province se non costretti a rivolgersi a laboratori a pagamento. Di fronte all'ennesima risposta deludente, il signore Luciano Gaudenzi ha deciso di protestare pubblicamente. L'intervista è di Massimo Foghetti. Signore Gaudenzi, come è cominciata questa sua brutta avventura? Con una visita oculistica che dovevo fare da marzo del 2024 e che non c'era mai disponibilità da poterla fare. Dopo alcuni tentativi sono andato a una visita a pagamento che ho pagato di tasca mia. Quindi diciamo che il medico di base le ha prescritto una visita, lei è andato al CUP dell'ospedale Santa Croce e le hanno risposto che non c'è possibilità alcuna di fissare un appuntamento. Esatto, perfetto, perfettamente è così. Dopo a questo punto sono andato a visita a pagamento, di tasca mia, di cui ho risolto il problema. Però il problema è ritornato, dopo alcuni mesi è ritornato. avendo ancora la vecchia ricetta che non avevo buttato via, che mi aveva fatto la dottoressa e che è, sono ritornato alla ricarica, insomma, la carica un'altra volta, insomma, voglio dire, per vedere se c'era spazio. Non esisteva nessun tipo di disponibilità, insomma. Ecco, ritorno dalla dottoressa, mi ha rifatto una ricetta nuova, una richiesta nuova, voglio dire che è con priorità e che è, e a tutt'oggi non esiste niente. Cosa devo fare a questo punto? Dopo ne è subentrata anche un'altra, perché purtroppo nel frattempo, camminando, diciamo che è, mi viene un po' il fiatone, dovrei fare una spirometria, che c'ho la richiesta fatta, che è, anche di quella non esiste nessuna apertura, insomma, non mi posso pronotare da nessuna parte, solo in basse marche. Tutto qui. Ecco, il signor Gaudenzi è un pensionato, quindi non ha dei grandi risorsi economiche da poter fare visite a pagamento a ripetizione. Esatto, purtroppo sì. La situazione è questa, insomma, ecco, voglio dire, una ne ho fatte, però non è che posso fare, ce ne sono altri due, non è che posso fare tutte e due a pagamento. Il nuovo ospedale di Muraglia è l'esodo dei medici tra i temi del sit-in di protesta organizzato dal Partito Democratico di Pesaro. Il sindaco Biancani ha accusato il centrodestra di aver affossato la sanità. Marco Lonniro. La sanità pubblica è al collasso, è il messaggio lanciato dal PD di Pesaro nel sit-in di protesta svoltosi nei giorni scorsi al pronto soccorso. Presenti anche le forze di maggioranza di governo della città. Insieme hanno chiesto alla Regione risposte sui temi risolti che riguardano il sistema sanitario. Dal nuovo ospedale alla mancata presentazione dell'atto aziendale, ma anche lo spostamento dei dipartimenti di salute mentale, la situazione del pronto soccorso e quella delle liste d'attesa. Oggi come amministrazione comunale, come sindaco, ho posto nelle ultime settimane dei problemi, dei problemi che ritengo importanti, che vanno dal non utilizzo di una nuova palazzina realizzata proprio per il pronto soccorso, a un atto aziendale che ancora ad oggi non è stato condiviso con le amministrazioni, al tema della salute mentale dove ancora ad oggi non si capisce dove saranno portate queste famiglie, queste persone fragili e che quindi meritavano un'attenzione migliore, che ancora ad oggi non si sa se o interverrà o non interverrà la Regione sulla parte dell'ex manicomio di loro proprietà, perché noi stiamo sistemando una parte con 15 milioni di euro e rischiamo di non avere l'abitabilità perché la Regione non fa neanche quella molto in zone minima. Non sappiamo se il centro sull'autismo andrà avanti o non andrà avanti, dove verrà realizzato. La destra sta affossando la sanità, ha detto il primo cittadino. Nell'ultimo periodo solo il direttore generale dell'asta di Pesaro e Urbino, Alberto Carelli, ha risposto alle richieste, dice Biancani. Ho ricordato che sono passati quattro anni da quando sono al governo regionale, l'amministrazione comunale deve, io come sindaco, devo in qualche modo occuparmi della salute dei cittadini, ribadisco la volontà di un confronto positivo, di un confronto costruttivo, della voglia di dividere e di dare, come dire, un possibile mente, anche un contributo, ma fino ad oggi non ho avuto risposta. Le uniche risposte che ho avuto appunto sono la direttore generale, che dal mio punto di vista non ha colpe perché è una persona che è arrivata da poco, perché le scelte che si stanno facendo non dipendono da lui, ma dipendono dalle scelte precedenti. Immediata la risposta del centrodestra, c'è tanto allarmismo e poca voglia di collaborare, analizza il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Baiocchi. Ci sono state fatte tante cose, adesso è in fase della progettazione per il nuovo ospedale di Pesaro, sta andando avanti tutta la fase del DM77 sulle case di comunità, ospedali di comunità a Cotte, è stata fatta la riforma dell'organizzazione sanitaria, il nuovo piano sottosanitario ed ora a settimane ci saranno i nuovi atteziendali che andranno un po' a definire e delineare la nuova sanità territoriale. Quindi non possiamo in alcun modo essere accusati di lassismo, stiamo sicuramente cercando di fare il massimo possibile in questi anni, dove nei primi anni e mezzo o due anni sono stati interessati dal Covid. Quindi tanto impegno, tanta voglia e sicuramente poca collaborazione della controparte. E sono sempre di più i telespettatori che ci segnalano avvistamenti di lupi nei quartieri di Fano. Oggi Stefania Schiaroli ha intervistato e incontrato Cristian Gori, il biologo che ci ha spiegato il perché di questo fenomeno e come comportarsi in caso in cui ci trovassimo davanti ad un esemplare. Questa mattina abbiamo intervistato il biologo e naturalista Cristian Gori per parlare dei lupi che in questi giorni sono stati spesso avvistati in città. Partiamo col dire che si tratta di lupi appenninici che tendono a favorire le zone montane intatte, densamente forestate e lontane dall'interferenza umana. Sono animali che dimostrano prediligere stare svegli nelle fasi crepuscolari e notturne. L'avvicinamento in città è dovuto al fatto che gli uomini invadono sempre più gli spazi naturali, che sono l'habitat dei lupi e quindi per sopravvivere hanno bisogno di avvicinarsi per cercare cibo. Il loro istinto li spinge a riappropriarsi della natura che è la loro casa. Cristian ti ha spiegato come comportarsi in caso di avvistamento di questi esemplari che saranno sempre più presenti nei nostri territori. Ultimamente a Fano sono stati avvistati dei lupi e ne stanno avvistando sempre di più. Ci spieghi perché? Sì, sta aumentando poi le segnalazioni. È un animale che sta aumentando in tutta Italia, è un fenomeno generalizzato, e sta tornando in quei posti in cui prima era presente. Siamo aiutati a pensare a un animale di montagna, di collina. In realtà questa è un'idea sbagliata perché fino agli anni 70 il lupo era quasi estinto. C'erano 100 esemplari nell'Appennino e il resto era spopolato. Ora con le politiche di conservazione, con l'aumento dei parchi, questo lupo sta aumentando in numero e quindi sta tornando in quei posti in cui c'era. E fa a Fano c'era una volta e quindi sta tornando in questi posti. Che cosa mangia di solito il lupo? Il lupo è un predatore, di conseguenza caccia le prede che trova nella sua zona. Quando sta nel bosco, sta nella pianura, ha le sue prede selvatiche. Se invece sta in città, trova la città, chiaramente inizia a puntare e a cercare anche i predi più facili, per esempio cane o gatti. Infatti come sappiamo ci sono dei casi in cui ha predato questi animali. Purtroppo accade perché ovviamente il lupo, come tutti gli altri animali, si deve cibare, deve mangiare e quindi questo accade proprio perché ricordiamo che appunto sono state contaminate dagli uomini i suoi territori. In città trova questo e quindi si cerca questo. Come fare per mettere in sicurezza i propri animali dal lupo? Bisogna tenereli sott'occhio, bisogna guardarli, quindi evitare di farli uscire durante la notte, per esempio, evitare di lasciarli liberi. Bisogna controllarli. È l'unico modo per fare. Che cosa fare in caso di avvistamento di un lupo? Mettiamo che stiamo camminando all'improvviso, sia di giorno o di notte, ci troviamo di fronte a un lupo. Il lupo normalmente scappa alla nostra presenza perché ci riconosce come un pericolo. In un caso normale il lupo ci vede e scappa alla nostra presenza e quindi va bene così. Quando invece il lupo non scappa gli potrà nessun problema perché questo animale selvatico riconosce che noi non siamo un pericolo così come dovremmo esserlo. In quel caso la cosa migliore da fare è spaventarlo. E in che modo lui riconosce che non siamo un pericolo? Perché rimane ancora vicino a noi. Se un animale ha paura scappa alla nostra presenza. Se invece rimane vicino a noi chiaramente capisce che non siamo così pericolosi. perché magari ha già visto altre persone che sono avvicinate, hanno provato a dargli al mangiare. Non sono stati minaciosi come magari si immaginava, come si aspettava. Quindi quello che bisogna fare in questi casi è scacciarlo, spaventarlo, urlando, alzando le braccia senza lanciare nulla, senza lanciare oggetti. Assolutamente rispettando l'animale in tutto e per tutto. Semplicemente urlando per esempio. Esatto. In questo modo capisce che siamo un pericolo e quindi se ne va. Perché appunto il problema grosso per questi animali è che diventino confidenti. Cioè quando un lupo comincia a perdere paura per le persone, allora è lì che potrebbe nascere il problema. Perché si conoscono dei rarissimi casi, però documentati, per esempio il lupo di Otranto, di Vasto, oppure l'ultimo di Finale Ligure, in cui dei lupi hanno attaccato delle persone. Però sono eventi rarissimi, spieghiamolo bene. Sono casi rarissimi ma collegati a lupi confidenti. Quindi per questo la cosa importante è scacciare questo animale. Perché non deve essere confidente. Adesso è un animale che ha paura delle persone. Ricordiamo a tutti che il lupo è un animale protetto. Esatto. E la cosa importante è imparare a conviverci con questo animale. Appunto perché sarà una presenza ormai costante nel nostro ambiente. E bisogna imparare a comportarsi con questo predatore. E sul tema oggi è intervenuto anche il consigliere regionale dei civici Marche, Giacomo Rossi. Come molti sanno, nelle ultime settimane un branco di lupi è diventato stanziale in una zona semiurbana di Fano, tra i quartieri del Vallato e di San Lazzaro, con avvistamenti continui sia diurni che notturni. La situazione sta diventando di estrema preoccupazione tra i residenti, anche a seguito di predazioni verso animali domestici. Ho voluto quindi scrivere alla Regione, all'assessorato competente, alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche, pur sapendo che la materia non è di competenza completa della Regione, ma ritenendo opportuno che la Regione debba far presente quanto prima la situazione alle autorità competenti e richieda la messa in campo di tutte le azioni necessarie ed opportune affinché questo branco di lupi si è allontanato dalla zona in cui si è insediato, non evitare il verificarsi di ulteriori preoccupazioni e o danni. La Polizia di Stato di Ancona questa mattina ha sequestrato le armi in dotazione a due guardie giurate, entrambe italiane di 37-50 anni, che prestavano servizio all'aeroporto di Falconara. Una delle due, infatti, era stata querelata da un collega per minacce gravi e di morte. Un fatto confermato anche da altri colleghi che hanno raccontato del contesto lavorativo alquanto invivibile che si era creato negli ultimi mesi. Durante l'ispezione, oggi, i poliziotti hanno rinvenuto anche tre coltelli nella disponibilità di una delle due guardie giurate. Per questo è stata denunciata per aver portato fuori dalla propria abitazione le armi bianche, per cui non è ammesso il porto. All'altra guardia, invece, è stata contestata la mancata denuncia di detenzione, che è obbligatoria, visto che la sua arma è stata ritrovata non nel suo domicilio, ma a casa della prima guardia, con la quale conviveva. Il comune di Pesaro dice no alla realizzazione di una rampa per disabili alla scuola primaria Collodi. Per questo motivo, sabato scorso, in Piazza del Popolo, si è svolta la protesta dei genitori. A Pesaro tiene banco la questione legata alla scuola primaria Collodi di Via Ugolini. I genitori di Anna, una bambina diversamente abile, da due anni chiedono di realizzare uno scivolo per abbattere la barriera architettonica, in questo caso una rampa di scale che impedisce l'entrata e l'uscita da scuola. A dimostrare questo problema è una foto pubblicata sui social alcuni giorni fa. La questione è nota al comune di Pesaro, che ha deciso di non costruire la rampa perché è troppo ingombrante e rallenterebbe, si legge in una nota, l'uscita degli alunni in caso di emergenza. Sabato mattina, dinnanzi al palazzo del comune, si è svolto un sit-in di protesta pacifica per evidenziare il problema. Le promesse c'erano. La promessa degli assessori, che erano in carica già con la giunta Ricce, che sono stati riconfermati con la giunta Biancani, erano di realizzare la rampa a fine anno scolastico, quindi a giugno 2024. Questo non è accaduto e siamo qua noi a manifestare per questa cosa. A manifestare i genitori di Anna e non solo, presenti anche altri bambini della scuola e i loro genitori. Una risposta della cittadinanza, perché questa è una battaglia di civiltà. L'amministrazione comunale è in contatto con i genitori di Anna, che hanno sollevato la questione all'indomani del terremoto del 2022. Sì, ci sono stati varie situazioni dove mia figlia è dovuta uscire in braccio anche in condizioni di emergenza. Per citare il primo, novembre 2022, l'evacuazione col terremoto. Però ci sono le prove di evacuazione, dove la bambina è costretta a uscire in braccio all'insegnante, di corsa, in dinamiche che, insomma, lascio intendere a voi quali possano essere. Ad oggi la rampa non è nelle idee del comune di Pesaro, che ha individuato un'altra soluzione, realizzare un cosiddetto spazio calmo, un luogo dove chi non può evacuare autonomamente attende i soccorsi. L'idea, però, non scalda i cuori dei genitori di Anna, che continueranno a battersi per l'inclusione e il rispetto della normativa sull'accessibilità a scuola. La vicepresidente del Consiglio Comunale di Fano, Sara Cucchiarini, incalza Ser Filippi sull'ex Caserma Paolini, che attende da maggio, ha detto, di essere portata in consiglio per essere inserita tra i beni inalienabili del comune dopo il trasferimento del bene da parte del demanio regionale avvenuto i primi di maggio grazie ad un'operazione dell'amministrazione Seri che ho seguito personalmente come assessore al patrimonio. Tutto fatto e tutto pronto, dichiarato la consigliera del Partito Democratico, che sul tema ha presentato un'interrogazione, ma con l'arrivo di Ser Filippi, ha aggiunto, si ha quasi l'impressione che non ne voglia parlare. Il sindaco non deve fare altro che accettare che la caserma ce l'hanno trasferita gratuitamente grazie al nostro lavoro e deve portare questa evidenza anche in consiglio comunale con gratitudine e spirito di squadra. Agli antagonisti politici, a concluso, si devono riconoscere i meriti in un rapporto che auspico interlocutorio, soprattutto da uno sportivo come lui. Qualità buona e quantità media per la vendemmia nella provincia di Pesaro e Urbino e in quasi tutta Italia. Al via, nelle campagne, la raccolta dell'uva, sia a mano che con i mezzi agricoli, che quest'anno è partita in anticipo grazie al clima variegato. Sentiamo allora di più nel servizio realizzato nelle colline di Cartoceto. C'è fermento nelle campagne fanesi e nell'entroterra di Pesaro e Urbino. Camion, trattori e diversi agricoltori sono all'opera in queste settimane per la raccolta dell'uva lungo i vigneti. La vendemmia è partita in anticipo quest'anno grazie alle diverse condizioni climatiche che hanno interessato le nostre zone. Passeggiando nelle colline tra Fano e Cartoceto non si può non notare il grande lavoro in atto degli operatori vitivinicoli. Tommaso Di Sante, come sta andando la raccolta dell'uva e qual è la situazione? Allora, siamo quasi agli sgoccioli perché la stagione, vista le condizioni climatiche particolarmente diverse, è iniziata molto presto, prima di Ferragosto addirittura con le basi spumanti per arrivare fino adesso sui prodotti superiori riserva. Un'annata positiva, a dispetto dell'anno scorso, che è stata un'annata abbastanza drammatica, nonostante la siccità, a macchia di lopardo, insomma, le condizioni sono state un po' diverse, però qualitativamente abbiamo un'ottima produzione. La quantità è sulla media, ritorniamo su una produzione standard. E invece come sono le uve? Le uve sono sane, è chiaro che sulle zone dove la pioggia è stata poca c'è stato un calo di produzione, però qualitativamente abbiamo già in fase di fermentazione in cantina degli ottimi profumi, quindi dalle uve belle sicuramente otterremo un'annata decisamente positiva per i vini 2024. Il mondo dell'agricoltura, si sa, è in continua evoluzione, come per tutte le lavorazioni, anche la raccolta dell'uva ha visto l'introduzione da diversi anni di macchine all'avanguardia, nonostante c'è chi, ancora oggi, preferisce raccogliere a mano. Ovviamente la raccolta manuale ti dà meno liquido e quindi una qualità decisamente maggiore, perché arriva al grappolo sanissimo. La raccolta macchina riduce i costi e i tempi di raccolta, quindi qualitativamente riducendo i tempi di raccolta, la mattina molto presto, in 3-4 ore si riescono a portare in cantina mosti ovviamente freddi, uve ovviamente fresche. È chiaro che per la macchina non si fanno prodotti di eccellenza, quindi ancora la mano dell'uomo è fondamentale, quindi si raccoglie per la selezione, per il riserva, per ovviamente tutte le bottiglie. La raccolta avviene in gran parte delle aziende marchigiane, ma nazionali, italiane, si raccoglie a mano, legate alla tradizione e con uno sguardo all'innovazione tecnologica per ridurre ovviamente i tempi e i metodi di certe lavorazioni. Il funzionamento di queste macchine, trainate e ossemoventi, è semplice. Attraverso lo scuotitore interno gli acini finiscono in un condotto, mentre le foglie vengono eliminate esternamente. Successivamente l'uva arriva alle casse della vendemmiatrice, che una volta piena viene scaricata in altri cassoni in acciaio, pronta per il trasporto in cantina. In cantina vengono pressature soffici, con temperature controllate, iniziano le pressature e poi le fermentazioni. Anche le vendemmiatrici hanno cannoncini di CO2 per raffreddare le uve, così avviene con gas inerte anche in cantina, con azoto per evitare il contatto con l'ossigeno da parte dei mostri, dei liquidi che perderebbero l'aromaticità del vino finale. Quindi si lavora con molta tecnologia al dispetto di quello che facevano i nonni, solo grazie alla tradizione e all'esperienza. Venerdì 27 settembre l'Università di Urbino partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, sostenuta dalla Commissione Europea. Saranno 800 le iniziative in calendario, 15 le città italiane coinvolte, 200 le istituzioni e i partner culturali che vi prenderanno parte, 5 infine le università che collaborano alla realizzazione dell'evento, tra cui UniUrb. Il programma, che troverete anche sul nostro sito, occhioallanotizia.it, prevede spettacoli, concerti, talk, dimostrazioni, mostre, visite guidate, laboratorie e conferenze tra Urbino e Fano. Tra le conferme, il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado. Tra le novità, invece, la media partnership di Rai Cultura, Rai Radio 3 e Rai Radio Tecete. Infine, il canale YouTube raccoglierà brevi documentari dalle diverse città per raccontare, nel corso dei mesi, i luoghi della ricerca. Ed ora, apriamo il grande album di famiglia di FanoTV per fare gli auguri a Mariano Gilebbi, noto come Mario, e Bruna Brunetti, che ieri, 15 settembre, hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Nozze d'oro per questa coppia residente a Orciano di Terre Rovesque. E sempre ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio anche Giannino Peroni e Rita Landini, che vediamo in queste fotografie scattate davanti alla chiesa di San Sebastiano a Bellocchi di Fano. A queste due coppie vanno gli auguri da parte di tutti i familiari e, naturalmente, dallo staff di FanoTV. Bene, chiudiamo qui questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Tra poco le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato a banca e famiglia con la consegna dei bonus bebè a cura della BCC di Fano. Buon proseguimento di serata sul canale 19 di FanoTV. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS